Papa Francesco ha annunciato che la giornata di venerdì prossimo culminerà alle ore 18 con una preghiera in Piazza San Pietro. Don Marco, qual è l'importanza di questa iniziativa? È un richiamo alto e reale, urgente a disattivare i meccanismi dell'odio e a pregare per la pace in un momento in cui il mondo è infuocato dalla guerra in Terra Santa, pericolosissima, dolorosissima con l'attacco terroristico di Hamas e quello che ne ha conseguito e anche la guerra in Ucraina e molte altre aree di conflitto. Vale la pena sottolineare che Papa Francesco ha invitato gli esponenti di tutte le confessioni cristiane e delle altre religioni ad unirsi alla preghiera del 27 ottobre in Piazza San Pietro. Dalla sua prospettiva, Don Marco, come è stato accolto questo invito del Papa? Io credo con grande attenzione e sensibilità perché è una guerra che minaccia tutti gli equilibri, la convivenza, tutte le religioni, non siamo più in mondi omogenei, cristiani, musulmani, ebrei che vivono gli uni accanto agli altri e talvolta il conflitto segna dolorosamente ferite. Soprattutto sono guerre ormai asimmetriche, si combatte contro i civili, non fra eserciti. Ce l'ha dimostrato appunto l'aggressione di Hamas e poi oggi la preoccupazione per Gaza. C'è stata una conferenza dopo l'attacco alla chiesa che ha visto il cardinale Pizzaballa, il primate della chiesa ortodossa e poi l'arcivesco anglicano, ribellarsi a questo orrore. Non si possono colpire né i luoghi santi, né i civili. E poi il bambino resta un bambino anche quando è figlio del tuo nemico. E soprattutto per uccidere il terrorismo e maestra in questo bisogna dire delle bugie, bisogna disumanizzare l'altro. In realtà in Israele ci sono arabi israeliani, c'è Gaza, c'è la Cisordania, c'è il diritto di Israele a vivere, c'è il diritto dei palestinesi a vivere, ma l'inquinamento dell'odio, 75 anni di strada di pace interrotta più di una volta, dei conflitti ci dicono che bisogna prepararci alla pace. Papa Francesco è un maestro in questo, insiste, noi abbiamo sprecato la pace, si sono accumulate tanniche di odio e bisogna disattivare tutto questo. Ecco, come diocesi del Papa, qual è il vostro messaggio ai fedeli? Il nostro messaggio, per quello che possiamo, qui è disinnescare ogni motivo di contrapposizione, costruire, diciamo, un'alternativa. Il popolo ebraico ha diritto di esistere a Gaza, vediamo l'orrore delle devastazioni, i civili ostaggio di questa guerra, ci sono gli ostaggi di Hamas, ma bisogna arrivare a una tregua e da parte delle altre componenti religiose a Roma, pensiamo ai musulmani, mi sembra che c'è un atteggiamento anche di preoccupazione. Quello che fa la diocesi nelle pieghe della vita delle parrocchie, dei movimenti, di chi opera sul campo, c'è soprattutto un atteggiamento di attesa verso la pace, perché purtroppo alla guerra ci si è abituati drammaticamente a sue fatti, al conflitto, a partire dai social, ma queste immagini sono vita e morte, sono disperazione, non sono fake news, è la realtà terribile di un mondo che non investe più sul dialogo. Vediamo che anche il multilateralismo, la conferenza del Cairo, sono tentativi che faticano a indicare una strada. Cosa possono fare le religioni per aiutare il dialogo e quindi il lavoro diplomatico nelle situazioni di crisi? Guardi, lo spirito di Assisi, inaugurato il 27 ottobre del 1986, alla vigilia della caduta del muro ha indicato una roadmap per tutto il terzo millennio e devo dire che Papa Francesco ha rilanciato lo spirito di Assisi. Io mi ricordo nell'89 siamo stati, faccio un salto indietro, ad Auschwitz-Birkenau insieme a moltissimi musulmani del Maghreb, rappresentanti importanti del mondo sunnita e non solo. Oggi ebrei cristiani e musulmani hanno vissuto una stagione nuova e si trovano a fronteggiare questa storia complicata del terzo millennio. La globalizzazione e i conflitti, una contraddizione vivente. Noi come esponenti naturalmente della Chiesa Cattolica abbiamo una visione universale, ma ogni rappresentante delle religioni deve avere uno sguardo più largo dei confini del suo popolo e così credo che le religioni possano fare molto. Sono più credibili oggi. C'è l'esigenza e la richiesta della pace, però qualcosa in positivo è cambiato. Ma certo, ci sono esperienze anche dentro Israele di lavoro per la pace alla base e poi devo dire che c'è più stima del Papa Francesco con il documento di Abu Dhabi, la fratellanza universale, il rapporto con il grande Imam Tayeb del Cairo, di Al-Azhar, ha tracciato una strada e si confronta questo incontro fraterno con il problema della libertà religiosa, della pacificazione, della cultura, delle donne, dei poveri. Il dialogo non è nei circoli degli esperti, ma è il dialogo fra popoli per sminare il nostro tempo da questo inquinamento dell'odio. E poi ha delle conseguenze pratiche, diciamo così, no? Sì, guardi, le faccio un solo esempio. Pochi mesi fa c'è stato un attacco ai cristiani in Pakistan, in una regione. L'imam di Lahore, che partecipa da anni a questo incontro nello spirito di Assisi, si è recato nei quartieri cristiani dicendo vi aiuto a ricostruire le case, e ha chiamato a raccolta gli imam e ha detto dovete proteggere questa minoranza. Ed era amico di Shabbat Battì, il ministro dell'armonia, cattolico, assassinato a 43 anni da chi non vuole la pace e la distensione. Ci sono molti martiri della pace, anche nel mondo ebraico, come nel mondo cristiano, come nel mondo musulmano. Oggi tutto ruota attorno all'arrivo degli aiuti umanitari all'interno della striscia e alla liberazione degli ostaggi, come ripete spesso Papa Francesco. Sono una precondizione perché si possa immaginare un futuro in cui questo disastro non cresca, non si comunichi, non infiammi tutto il mondo, ma soprattutto è la vita di questi civili, bambini, anziani, giovani, donne, uomini, che è preziosa da una parte e dall'altra. La vita è intangibile. Purtroppo la guerra dice il contrario, ma noi dobbiamo opporci risolutamente cercando le strade. La prima nostra responsabilità è quella di pregare, di testimoniare che noi vogliamo un mondo pacificato. Io credo che la preghiera abbia una grande forza, anche se mi sconosciuta, anche se non sembra apparentemente, in realtà anche gli ebrei dicono ticumolam, rammendare le lacerazioni del mondo. E il Papa ha ricordato questa preghiera per implorare la pace nel mondo. Come diocesi di Roma ci sarete? Ci uniamo, siamo assolutamente solidali. Devo dire, c'è l'orgoglio umile di essere figli di questa Chiesa di Roma, il nostro Vescovo e il Papa, che proprio qui ci consegna la responsabilità di avere, anche se viviamo localmente in una parrocchia, in una situazione particolare, dobbiamo avere il suo sguardo, anche uno sguardo largo. E di questo siamo molto consapevoli. L'invito a perseverare nella preghiera. La Madonna risponde sempre alla preghiera, quindi avere fiducia, confidare. Io credo che sotto il suo manto, come era figurato anche in tante icone dell'Oriente, ci sono i feriti della vita, i deboli, i peccatori, i sofferenti. E questo manto inclusivo della Vergine raccoglie tutta l'umanità, perché alla fine il Signore Gesù è il fratello che si identifica con i più piccoli quando è ferito, è incarcerato, è nudo, affamato, assetato. E credo che purtroppo la guerra, il panorama di oggi, le guerre, i conflitti, forse più di 30 nel mondo, ci ricordano la responsabilità della preghiera, la maternità della Chiesa, la paternità di Dio che guarda anche oltre i confini delle nostre nazioni, del nostro mondo. E ci chiede se la Chiesa Cattolica è sacramento dell'unità della famiglia umana di lavorare per questa unità con passione, intelligenza, creatività. E soprattutto, io penso al discorso escatologico di Gesù davanti a Gerusalemme, la perseveranza salverà la nostra vita e anche la vita del mondo. Quindi perseveranza umilissima nella preghiera, nella fraternità.